Il meraviglioso gioco del baseball o MLB per chiamarla nel termine convenzionale è arrivata al Championship Series le finali di conference per usare termini di altri sport coinvolgeranno quattro squadre per l'American League Tampa Bay e Houston per la National League Los Angeles e Atlanta in una serie, in un turno di playoff che ha visto delle cose interessanti soprattutto per quanto riguarda l'American League parlo ovviamente di Division Series, cose invece un po' più pronosticabili per quanto riguarda le Division Series della National League in questo video parleremo del secondo turno di playoff delle partite che ha trasmesso anche Sky Sport con un occhio particolare da giocatori da tenere d'occhio e in più presenteremo anche le Championship Series concludendo parlando della gara 1 che c'è già stata stanotte tra Tampa Bay e Houston nel giorno in cui i Los Angeles Lakers hanno vinto il titolo in 6 partite contro i Miami Heat con LeBron James MVP delle final ma parliamo di baseball e parliamo di quello che è stato la National League Division Series c'era un match potenzialmente interessante tra Los Angeles Dodgers e San Diego Padres è evidente che i Dodgers vedendo anche la serie come è finita con San Diego sono probabilmente i favoriti per la National League io mi aspettavo una serie molto più equilibrata visto che entrambe le squadre erano molto attrezzate Los Angeles è ovvio ha molta più esperienza rispetto a questi giovani San Diego Padres che comunque con l'attacco spaventoso che avevano potevano almeno vincere qualche partita io avevo addirittura detto in 5 partite invece Los Angeles non ha voluto darmi ascolto e ha spazzato via San Diego Padres per 3-0 in una serie che non ha avuto diciamo nessuna storia e attenzione perché ora più che mai i Los Angeles Dodgers sono intenzionati ad arrivare fino in fondo arrivare anche una volta alle World Series dopo averne perse due consecutive nel 2017 e nel 2018 c'è area di riscatto e c'è voglia per la formazione allenata da Dave Roberts di portare a Los Angeles nel baseball un titolo che manca dal 1988 e dovranno affrontare i Los Angeles Dodgers e gli Atlanta Braves una squadra che ha avuto vita facile contro i Miami Mornings che avevano già fatto una grande impresa nell'upset contro i Chicago Cubs due partite le hanno trasmesso addirittura i ragazzi di Sky Sport e non c'è stata praticamente storia soprattutto nella gara 3 Atlanta anche in questo caso effetta lo sweep il cappotto per usare un termine italiano e batte 3-0 i Miami Marlins che si affidavano nelle gare trasmesse da Sky Sport ai due lanciatori più rappresentativi evidentemente della loro formazione in gara 1 ha lanciato Sandy Alcantara e in gara 3 ha lanciato Sixto Sanchez sono state gare in realtà abbastanza diverse tra di loro perché come possiamo vedere gara 1 la vincono i Braves per 9-5 c'è stato addirittura un momentaneo vantaggio dei Miami Marlins alla fine della parte alta del terzo inning però gli Atlanta Braves con il loro attacco sono riusciti a compensare questo svantaggio gli Atlanta Braves sono una squadra di bombardieri per usare un termine italiano e hanno un monte di lancio che insomma non è propriamente il più forte della Lega in compenso nella serie contro i Miami Marlins tutti i lanciatori dei Braves hanno fatto delle ottime figure in particolare gli altri due partenti oltre Max Fried quindi parliamo di Anderson e di Kyle Wright il lanciatore vincente in realtà di gara 1 è il rilievo Will Smith che è entrato a partita in corso invece il perdente è Sandy Alcantara che paga in particolare gli inning finali il settimo soprattutto dove va a concedere parte dei sei punti decisivi che metteranno gli Atlanta Braves nel vantaggio per 9-5 in particolare i fuoricampisti degli Atlanta Braves si fanno sentire soprattutto Travis Darnot il catcher che sta avendo una postseason veramente straordinaria e ci mette il fuoricampo anche Dasbin Swanson l'interbase della formazione di Brian Snitker non poteva mancare poi il fuoricampo di Ronald Lacunia ma quello è arrivato nella prima ripresa di fatto al primo battitore affrontato da Sandy Alcantara gara 1 finisce 9-5 gara 2 la vincono sempre i Braves ma soltanto per 2-0 con un'ottima prestazione appunto di Ian Anderson dall'altra parte c'è comunque un'interessante prestazione del rookie Pablo Lopez ma ovviamente il pivotal game la gara decisiva è la terza partita in una sfida dove gli Atlanta Braves di fatto fanno quello che vogliono contro i poveri Miami Marlins come dicevo in apertura grandissima prestazione di Kyle Wright che non concede punti alla formazione di Miami gli Atlanta Braves mettono i punti decisivi dal terzo e il quinto inning e poi dal sesto al nono è di fatto una passeggiata non ci sono in realtà fuoricampo da segnalare in questa partita diciamo che sono stati punti costruiti con valide basi ball insomma giochi di squadra un po' come il famoso metodo Kansas City Royals del 2015 o Houston 2017 una formazione dei Braves che dunque arriva a carica a queste championship series contro i Los Angeles Dodgers e sarà una sfida tutta da seguire ovviamente perché sono due squadre veramente molto interessanti i Dodgers sono sempre i favoriti per quanto riguarda ormai questa parte del tabellone probabilmente Atlanta potrebbe riuscire a vincere delle partite ovviamente però vedo i Dodgers in 5-6 partite difficile che possa andare a gara 7 visto che i Dodgers sono ovviamente lanciatissimi verso questo titolo che appunto come dicevo manca da 32 anni dal 1988 e tra l'altro se vincesse Los Angeles sarebbe una delle due squadre che potrebbe fare doppietta negli sport americani perché come dicevo i Lakers hanno vinto il titolo NBA stanotte e i Dodgers potrebbero fare lo stesso nel baseball c'è un'altra squadra che potrebbe fare doppietta e sono i Tampa Bay Rays perché se dovessero arrivare fino in fondo e vincere il titolo farebbero doppietta con Locke e Ghiaccio visto che i Tampa Bay Lightning hanno vinto la Stanley Cup battendo i Dallas Stars a proposito di Texas parliamo di Houston che ha veramente cambiato marcia la squadra più odiata della MLB per via dei segnali rubati ha vinto una serie 3-1 con Oakland una serie veramente bella e ad alto punteggio come da pronostico io avevo detto che avrebbe vinto Oakland in 5 partite invece gli Astros si sono rivelati anche una volta una macchina da playoff tante partite, tanti punti segnati insomma una serie che per gli appassionati di baseball ha fatto sicuramente emozionare la partita che ha trasmesso Sky Sport era già una gara decisiva perché hanno trasmesso gara 3 una gara 3 che incredibilmente ha visto vincitori gli Oakland Athletics per 9-7 una partita spaziale piena di cambi di fronte, cambi di vantaggio insomma era una partita da seguire una partita che a un certo punto ha visto gli Houston Astros addirittura in vantaggio per 7-4 di solito un colpo psicologico del genere può ammazzare qualunque squadra non ha ammazzato invece gli Oakland Athletics che soprattutto riescono a tirar fuori l'orgoglio nelle parti finali della partita dell'ultimo terzo di gara e mettono un fuoricampo fondamentale da 3 punti con Chad Pinder per pareggiare la partita sul 7 pari Oakland poi decide di far entrare il suo closer l'uomo che dovrebbe portare a casa le partite ovvero l'australiano Liam Hendricks e Liam Hendricks effettivamente risulta essere il lanciatore vincente non concedendo nessun punto ai Houston Astros Oakland poi metterà altri due punti sul tabellone nella ottava ripresa per il 9-7 finale dunque c'era l'inerzia dalla parte della formazione di Bob Melvin la formazione di Dusty Baker ovvero gli Astros dunque doveva affrontare un nuovo elimination game il giorno successivo una gara 4 che appunto gli ha visti vincitori a sto punto per 11-6 una partita anche questa spettacolare con fuoricampo a go-go una serie veramente bellissima è peccato che non è stata trasmessa questa partita su Sky Sport perché ci saremmo veramente divertiti ci sono fuoricampo dappertutto in particolare gli MVP di questa partita sono Michael Brantley da una parte con due fuoricampo il solito Carlos Correa di cui parleremo dopo e per Oakland si risveglia Ramon Laureano che fa due fuoricampo su Zach Krenke tra l'altro quindi di certo non l'ultimo arrivato insomma una partita che anche qui ha visto tanti cambi di fronte poi a un certo punto Oakland soccombe a Houston che mette addirittura tra il quarto e il settimo inning tantissimi punti sul tabellone tutti di fatto gli 11 punti che li vedrà vincitori a nulla valgono i due punti finali di Oakland per l'11-6 finale dunque per questa vittoria per 3-1 nella serie gli Astros vanno ancora una volta alle Championship Series del quarto anno consecutivo sicuramente l'MVP di questa serie in generale della postseason per gli Astros è quest'uomo Carlos Correa portoricano del 94 quindi alla mia età è in MLB dal 2015 aveva fatto una regular season non propriamente idilliaca il giocatore di Porto Rico invece nella postseason si è svegliato ed è evidentemente lui insieme a Joe Springer insieme anche ad Altuve che ha migliorato in questi playoff la cartina di Stornasole per questi Houston Astros che saranno sicuramente la squadra più odiata della Lega in questo momento ma di certo sono una squadra tutto fuorché trascurabile in questa postseason e nei playoff il giocatore portoricano Carlos Correa ha questa partita ha queste statistiche 455 di media battuta addirittura 4 home run e 12 punti battuti a casa e sono tantissimi in queste pochissime partite di postseason considerato che Houston ha giocato le due partite di primo turno e 4 di secondo turno quindi in 6 partite 12 RBI sono veramente tantissimi per un giocatore che attenzione si è svegliato ed è più che intenzionato a riportare ancora una volta gli Astros alle World Series dopo lo scorso anno dopo la sconfitta contro i sorprendenti Washington Nationals la squadra del destino una formazione del Texas quindi quella di Houston che andrà ad affrontare i Tampa Bay Rays che hanno avuto ragione degli Yankees in 5 partite anche questa è una serie veramente equilibrata perché le due squadre insomma erano più o meno sullo stesso livello gli Yankees hanno pagato una regular season in realtà deficitaria per via di tantissimi infortuni in particolare quelli di Aaron Judge e Giancarlo Stanton Tampa Bay comunque era un attacco suntuoso e ci si aspettava una serie in 5 partite io ho detto che avrebbero vinto gli Yankees in 5 e invece Tampa Bay mi sorprende e batte gli Yankees in questa gara 5 decisiva che Sky Sport ha trasmesso una gara sontuosa equilibrata decisa da un episodio molto particolare di cui parleremo dopo i Tampa Bay Rays vincono 2 a 1 contro gli Yankees facendo tutti i punti per via aerea anche gli Yankees fanno l'unico punto per via aerea col fuoricampo di Aaron Judge arrivano invece i fuoricampo dei Tampa Bay Rays a pareggiare la partita in particolare al quinto inning Austin Meadows l'esterno destro e soprattutto all'ottavo inning arriva il fuoricampo decisivo di questo ragazzo di Mike Brousseau un altro classe 1994 un giocatore che è entrato a partita in corso al posto del coreano Iman Choy e Mike Brousseau si vendica di un episodio di cui adesso vi vado a parlare perché la situazione è questa ottava ripresa sul monte per gli Yankees c'è il missile cubano Haroldis Chapman e Brousseau è nel box di battuta un episodio però da rimarcare è questo una partita di regular season che ha visto coinvolto lo stesso Brousseau vedete Chapman che tira il lancio verso Brousseau qui non si vede dal fermo immagino ovviamente ma questo parliamo di un lancio di 101 miglia ed è un lancio fortissimo un lancio che praticamente va a avvicinare i 160 km all'ora Chapman perde il controllo del lancio Brousseau fa in tempo a schivare a malapena il lancio di Chapman un lancio pericolosissimo e è stato fortunatissimo Brousseau a evitare questo lancio in questo episodio poi Mike Brousseau finirà strike out e da questo episodio si capiterà diciamo una lite furibonda verrà squalificato Chapman verranno squalificati i manager delle due squadre insomma c'è il bench clear come succede a volte nel gioco del baseball per questo pericolo scampato da Mike Brousseau che di fatto un mese dopo circa perché questo episodio è del primo di settembre e la parola si è giocata il 10 di ottobre si ripresenta nel box di battuta e fa il fuoricampo decisivo che porta in vantaggio i Tampa Bay Rays che mettono la freccia e sorpassano gli Yankees e si aggiudicano le American League Division Series e vanno alle Championship Series con il fuoricampo di colui che si è vendicato di Harold Disciapan è una storia veramente pazzesca e incredibile per Mike Brousseau e i Tampa Bay Rays sono una squadra veramente on fire dal momento che hanno già giocato gara 1 contro gli Houston Astros e hanno vinto 1-0 la prima gara delle Championship Series è veramente una postseason clamorosa non solo per il format allargato non solo per le partite che si sono viste ma saranno ancora più incredibili per le squadre che sono rimaste e che cosa ci potranno offrire evidentemente tanto spettacolo oramai siamo arrivati alle Final Four se così possiamo chiamarle per usare un termine cestistico dal punto di vista universitario ma sono veramente partite e serie da seguire Tampa Bay Houston io la vedo una serie comunque equilibrata per i motivi che ho detto prima Houston è una macchina da playoff è abituata a giocare a certi contesti Tampa Bay sembra la squadra del destino la squadra assegnata un po' come erano i Washington Nationals lo scorso anno anche se il contesto è veramente molto diverso perché Tampa Bay è prima testa di serie nell'American League così come i Dodgers dall'altra parte ma questa formazione molto giovane molto esplosiva riesce a sorprendere ogni volta e sarebbe una bella favola vederli alle World Series Tampa Bay Race Houston Astros è comunque una serie molto equilibrata non penso possa arrivare a gara 7 Tampa Bay potrebbe vincerla in 6 se il monte di lancio di Houston crolla e non offre prestazioni diciamo interessanti come gara 1 delle Champions di cui parleremo dopo discorso diverso secondo me va fatto per Los Angeles e Atlanta Braves perché effettivamente i Dodgers sono ovviamente favoriti e come ho detto più volte puntano a tornare alle World Series di fronte hanno gli Atlanta Braves che comunque sono per tre volte campioni della National League East sono una squadra che è tutto forché trascurabile secondo me anche questa partita finirà in 6 partite a favore di Los Angeles Dodgers sarebbe interessantissimo vedere una finale Dodgers contro Tampa Bay Rays la squadra del destino contro evidentemente quella che danno tutti per favorita e non solo sarebbe evidentemente una sfida delle World Series eventualmente tra le due migliori squadre di entrambe le Conference l'ultima volta che è successo è stato nel 2013 tra Boston Red Sox e St. Louis Cardinals è sicuramente una serie da seguire quella delle Championship Series che vi ricordo sarà al meglio delle sette partite di cui appunto se vincono quindi se una squadra arriverà a giudicarsi quattro vittorie passerà alle finali della Major League Baseball e finalmente si parlerà di World Series prima di concludere il video parliamo però della gara che ha visto protagonista Tampa Bay e Houston che hanno già giocato la prima gara del Championship Series delle finali di Conference per vincere il pennant della American League e Tampa Bay va ancora una volta a vincere e ancora una volta è una vittoria per 2-1 per la formazione di Kevin Cash sulla formazione di Dusty Baker viene schierato in questa partita Blake Snell uno dei lanciatori partenti più importanti dei Tampa Bay Rays e doveva affrontare Frambert Valdez che da solo ha sollevato gli Houston Astros da una sconfitta contro i Minnesota Twins anche se in realtà la vittoria può essere più vizzata nell'errore di Jorge Polanco in quel contesto ma Valdez aveva fatto 5 innings con tutti senza concedere punti qui ne concede però uno di troppo per i Tampa Bay Rays tanto è vero che Valdez sarà considerato l'anunciatore perdente di questa partita la salvezza è di Diego Castillo ma ancora una volta i Tampa Bay Rays mettono punti sul tabellone per via aerea segno che ancora una volta i Tampa Bay Rays sono una squadra veramente di fuoricampisti basti pensare che per esempio nella serie contro gli Yankees l'80% dei punti è arrivato solo tramite via aerea solo tramite fuoricampo e non poteva che essere la giornata anche una volta di Arosarena il giocatore cubano veramente sontuoso un crack il giocatore cubano che ha fatto veramente sfracelli in questi playoff prima della serie finale contro gli Yankees era a una media battuta di 600 addirittura in postseason statistiche mostruose per il seno sinistro cubano che la sbatte fuori per il provvisorio pareggio e poi nell'inning successivo i Reyes mettono il punto decisivo sul tabellone e vincono una partita importantissima tirata ancora una volta di un punto e anche questa è una caratteristica fondamentale per i Reyes perché in regular season sono stati la miglior squadra della Lega a vincere partite con un solo punto di distacco prima di questa partita erano 14-15 quindi assolutamente un record da non trascurare e ancora una volta vincono 2-1 facendo meno valide della formazione avversaria che paga anche un errore a Houston non basta il fuoricampo del piccolo grande uomo di José Altuve al primo inning appunto su Blake Snell e i Tampa Bay Reyes si aggiudicano alla prima gara della serie vittoria per 2-1 e 1-0 nella serie vi ricordo si arriva al meglio delle 7 partite e 4 vittorie sono dei playoff meravigliosi sono dei playoff che vedono dunque 4 squadre impegnate Tampa Bay-Houston per l'American League Los Angeles Dodgers e Atlanta Braves della National League io vedo Tampa Bay e Los Angeles favorite per l'Avorsese probabilmente più pronosticata ma a sto punto è sbagliato non dare credito né ai Dodgers né ai Reyes fatemi sapere nel caso cosa ne pensate di questi playoff MLB e delle squadre che vedete coinvolte in questo tabellone il saluto da parte di Matthew Tolger ci vediamo domani con il post gara del moto mondiale Gran Premo di Francia alle mani